Ciao a tutti. Benvenuti sul nostro canale. Oggi siamo qui per discutere di un argomento che sta tenendo banco sui tabloide nei media. La recente separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Sono emerse alcune indiscrezioni che suggeriscono che potrebbe non essere tutto come sembra. Quindi, restate sintonizzati per scoprire le ultime novità su questa incredibile storia. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo nella sua rubrica per oggi, sembra che la separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno potrebbe non essere così definitiva come inizialmente annunciata. Le voci dicono che tra i due potrebbe ancora esserci una comunicazione cordiale. E non solo per il bene della loro adorabile figlia Ginevra. La domanda che molti si stanno ponendo è se questa rottura sia stata davvero solo una questione di opportunità politica. Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, sembra che Giorgia Meloni abbia cercato di rassicurare e confortare il suo ex. Specialmente dopo lo scandalo che lo ha coinvolto. Inoltre, Andrea Giambruno è stato spesso visto in compagnia della loro figlia Ginevra. E sembra che la Premier voglia mettere la serenità della bambina al primo posto. Nonostante le circostanze difficili che hanno coinvolto i suoi genitori. E ora. Prima di concludere questo video. Vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime notizie gossip. Basta un semplice clic sul pulsante di iscrizione. E sarete sempre informati su quanto succede nel mondo delle celebrità e della politica. Grazie mille per averci seguito. E ci vediamo al prossimo video.